eccomi qua raga eccomi qua allora salve ragazzi qui del 38 siamo in questa bella scuola con una situazione di trama abbastanza agghiacciata dobbiamo cambiare il luogo dobbiamo capire dove andare riusciamo andare in palestra il favore ce la faremo o ecco dove controllare la porta contro la nostra porta la donna come si è spaventato l'acqua è bello stai E scappa E aspetta Abbiamo detto che si può Come un messaggio Che cacchio E tu sei già pronto come sempre Aspetta Ok no Niente Niente Dove sei andata cosa No Gozzo non mi interessa Sala professore Penso che qua c'è un ingresso Alla palestra Uh cos'è quello Sì ma chi se ne frega Ok So che sto pensando Che cos'è Ah Eh roschi dai Eh questo l'abbiamo già visto C'è qualcosa Che non va Ma sicuro che Ma manca qualcosa C'è qualcosa Che ci sfugge C'è qualcosa Che ci sfugge Ragazzi Ok ma io non vedo niente Ma sei andata Alla zona giusta No vabbè No vabbè la sede L'abbiamo già vista Allora Allora non c'è niente Qua Ok andiamo A vedere bene Dove dobbiamo andare No mi dice solo Beh la cassa E quello sta là Che è mezzo svenuto Andiamo attorno A questo qua svenuto Un secondo Ah se si è ripreso E' ovvio Che preoccupare Nel panico Ok Volevo vedere Se potevo fare qualcosa Allora Qua mi dice Che qua c'è un punto Ah qua vediamo Che sai da dire Ah Devo parlare con lui E' strano Che non vedo nessuno Raga Io non vedo nessuno Forse non devo guardarlo Con questo Ma ragazzi Non capisco Ma la cartella Non mi interessa Quale è il fatto Qua dice che c'è qualcuno La mia domanda Dove c'è qualcuno Ah Mo me l'ho risposto Ah Hai capito adesso Sembra stata Che era qui Lei Che era qui quale bambini aspetta come una bambina come una bambina aspetta non facciamo brutti scherzi aspetta ha detto in salone no non può essere errore mio dobbiamo spostarci in bagno uno sguardo in giro ah giusto forse con teleca... guarda se mi appare davanti mi incazzo oh aspetta c'è una botola là oh c'è una botola aspetta fermati si siamo in bagno ok ok volevo solo essere sicuro si 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 no ecco là l'avevo capito l'avevo capito però è bello la visuale tra il 3d e il 2d ok ma quanto coraggio avete per entrare ok hai ragione si andiamo mamma mia raga vedi a volte parla poi a volte non parla non capisco quando ci sono le cinematic vedi quando è una cinematica così c'è l'audio quando invece devi fare ricerche e cose non c'è più ma io ho il lancio della bambina ok quindi oh siamo entrati volendo odio mozart c'è tanta betrup... eeeh quanta gente diccella Maro! Eh sì, sono morti Ok, no, scuola stavo leggendo Comunque il loro bambino stava in un tono, vabbè, non molto bello con noi Non parla? Ma c'è, fa gesticola Ah, ho capito C'è vero C'è vero? C'è vero C'è vero C'è vero Ok, ok Comunque avevo ragione sul fatto del Digimon, l'avevo detto chi era Oh Eh, che potete combattere, no? C'è vero 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 Ok Questa è la Tana Comunque è tutto spaccato Praticamente si poteva uscire dall'esterno Si poteva raggiungere Ok Ok Madonna che prospettiva in 3D Cioè a me piace il concetto del 3D e i modelli in 2D Non so perché piace troppo Ragazzi c'è la ragazza in me Lei va sempre da solo con tanta cattiveria E ti pareva Eh Dokugumon Sta a me sto coso Tutti qua di Ah ah e Agumon Ah Vabbè Oh Menamolo Ah 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 Eh sì perché questo Digimon Questo Dokugumon è un Digio di livello campione Sì ci sta pure il livello intermedio più piccolo Che è proprio palesemente la sua evoluzione inferiore Guarda 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 Agumon del tipo Hai paura veramente Per un cosuccio così che lo pestiamo a sangue Ok Agumon Agumon non vede la di combattere E' come Asterix quando dice Oh i pirati Oh i romani Sono pronti a picchiare i romani Oh eccolo qua Allora Ah possiamo Sceglierne solo due Allora Con chi abbiamo a che fai però Sono tutti virus Quindi dobbiamo fare Eh E' un altro Digimon un po' più forte Però Fammi pensare Guarda Una solo quattro Ok mettiamo loro quattro dai Allora Allora vedete Vedete Volevo solo far vedere una cosa Ah con nemici non posso fare proprio nulla Vabbè speravo Allora Vedete Lui è un Vedete Vedete Vede la differenza fra loro tre e quello Quindi dobbiamo cercare di Tenere la testa Prima questo Maronna Quello ha già difesa No Non fa niente Vabbè mettiamo difesa Eh buonanotte Muoviti Ecco perfetto E facciamo la difesa Con questo mostri avvicinano Eccolo qua Ok Sono tutti virus Non abbiamo problemi Si è messo la difesa Vedete Ok Ora tocca a me Uno Critico Dovevi fare chi male Tanta bella roba Eh Andiamo con un attacco ignorante E lo sfondiamo No dai ha fallito Non ce credo Ok No perché così Ah retromarcia Ah può attaccare solo Da lontano Ok ok Ho scoperto sta cosa Ok ok Non lo sapevo Non lo sapevo No dai Non me l'aspettavo Quindi loro hanno attacchi Solo a una distanza media Non posso attacchi da vicino Interessante Buona sapersi Sconfitto Grande Donda roba Ok Andata Del colpo Aspetta Sto guardando un attimo Scusatemi Ora vediamo se Funziona Tiè Danno critico Mamma mia Sfondato in un One step one kill Eh per forza Per forza Fine turno Assist Bella Critico No Però gli ha fatto molto male Fine turno Ok Lui ci sposta Per attaccarci di lato Ah la può attaccarci anche di lato Ok Cioè ci può far male Perfetto Si è curato Ok vedi Quello si è messo in protezione Lo attacchiamo Così facciamo male A questo Bene ci sono tolti i pezzi grossi I piccoletti Mo ci togliamo Pensiamo al bestione Vabbè questo fa schifetto Lui quindi va bene Che fa così Ok Inizia a farmare Sì lo attacchiamo A tutti i lati Tanta roba Eh lo sconfiggeremo Tanto Ok Siamo al punto turno Bello Dobbiamo Oh Ok Però gli sto facendo malissimo Ok Non sa parlare Beh Avete affrontato Delle mezze gazzette Però lo stavamo sconfiggendo Dai Ah non ha ancora attaccato Sul serio Ok Ok Non potrai mai battere questo mostro Forse dovrebbe nascondersi Non possiamo morire In un posto del genere Del tipo Questa casa fa schifo Il gioco Il gioco ci sono Tutti in ultimi A me vita Libero i miei amici Rapporti E tutti quanti Vogliamo salvare A voi Dobbiamo mettercelo Tutto Mi sento È pieno di energia Si dice Cosa diventa Grey No Cosa diventa Per forza Grey No Tyrannomon Diventa Tyrannomon Tyrannomon È diventato Non ci aiuta Per niente Tyrannomon È un digio di Tyrannomon È Tyrannomon Ok Tyrannomon C'è un problema Tyrannomon È un data Cazzo Con un tipo Vairus Non è molto D'aiuto Ah ok Ora Ah si Vabbè Ok Sì Ecco Appunto Appunto Capito che cosa volevo dire Dai vediamo un tuo bel attacco Mega fotonico Allora Togliamo di mezzo lui Grazie Tolto di mezzo Ma lì sto Quello Ci voleva Ci voleva Io direbbe Perché Evoluzione Ah Perché posso ritornare Anche dove Come prima Figo Ok 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 Mi dispiace Ritorniamo come Agumuraga Perché Un tipo Rocchi C'è un tipo Data Non ci aiuta Anzi Ci darebbe Solo Ti sa Problemi Non può fare Nulla Giustamente Togliamo di mezzo A questo Dio mio Ci proviamo Dai L'ha fallito Non ce credo Sì Finiturno Dai via Che dolore Curalo Grande No voglio Attaccare Ecco Grande Eh Volevi Eh Fine Torni Sto Cosa Mi sta dando Fastigo Qualcuno Che lo Me lo toglie Dai piedi Hai rotto Le scatole Ti Ass Ha tolto Di mezzo Quasi Se concentra Su di lui Che è una cosa Impressionante È bellissimo Che lo stiamo Attaccando Tutti Insieme Ok Ripuralo Andata Bellissimo Vedete che serve Quello che fa supporto No Mi serve un bel attacco Frontale E mori male Con un bel E ora No Sono cretino Io Vabbè Questo Metti Guardi Non hai potuto Fare nulla Tu Ok Andata Andata Dico andata Perché Attacco Te Arrivederci Grazie Basta Che non fa Missing Che è veramente Qualcosa Tipo Ok Battuto Soddisfatto 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 Eh vabbè Così è troppo facile Livellare Però eh Vabbè Eravamo pure Un po' livelli Eh Ragazzi Sono saliti Tanti di livelli Se non avete capito Sono saliti Quattro Oggi Tredici Quattorci 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 Quindi tanta roba Uh Cristallo del vigore Ottimo Un alto Così le posso Dare a un Naudit Mitigimon Assurato Eh sì Vabbè Eh sì Perché giustamente La saldiamo Giustamente Sì Sì Dai Ce l'avete fatta Non ho mai idea Mi ricordo quando Black War Grey mi chiese dove è il cuore Lui dice boh non lo so sulla testa Forse qui forse boh Un'accessiva? Aguomo Come si che hai avicato? Eee Eee Tachmane sia un'accessiva Che ci sono un'accessiva Sa le cose che mi hanno scopo E se Certo C'è un'accessiva Si può rifare L'agrazione Ma cosa sia un'accessiva Il mio amore è stato un po' interessante ma piccola domanda i bambini i bambini alla bambina e i 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 si lo so che sarebbe troppo rischioso i 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 si troppe domande caro mio dai credo che siamo all'atto 2 comunque eh si parte 2 lo sapevo era finito ci sta ci sta ok c'è un problema anche qui qua è continuata la loro io la staccherei qui che credo sia la cosa migliore da fa io qua vi saluto qui del 38 passo e chiudo bella raga